E' Bowery? No, è quel nanetto. Non è un nanetto, Sida, è un bambino. Ma che cazzo dici? I bambini non vestono così. Sei uno stronzo. No, la stronza sei tu! Nezzi, scusami. Ti ho chiesto scusa. Ho voglia di una bella pizza, sai? E ho voglia di andare via.